Voce è un'esperienza che ci racconta dell'importanza che il volontariato ha nella vita politica di una città. È lo spazio in cui noi prendiamo luogo, possiamo discutere, dibattere, anche rivendicare e confliggere. Senza Voce non c'è città e quindi ritengo che sia un'operazione importantissima perché restituisce un significato potente e centrale a quel che viene tenuto troppo spesso a margine.